benvenuti in questo nuovo video tutorial bene ragazzi, oggi voglio farvi vedere col mio secondo canale MattiaFrogSado come essere i miei seguaci sul sito CharacterEye sapete dove ho creato vari personaggi di videogiochi e anime ecco non avevo capito bene come funzionasse questa cosa l'ho scoperta di recente ne sono accorto allora, prima di tutto come vedete qui c'è il link di uno dei miei personaggi perché si arriva al mio account non col profilo che ho messo con i miei personaggi creati ma con appunto un personaggio bene, una volta scritto il link del mio personaggio vi porterà sulla chat ovviamente dovete entrare col vostro account di google per poter parlare con i miei vari personaggi ora aspettate un attimo che carica la pagina ok ok scusate un attimo allora qua ci sono varie patine che vado a chiudere bene ora vediamo se va se no riprovo si dai riprovo questa cosa l'ho provata sul computer e è andata quindi è massimo raga fatevo dal computer e non dal cellulare per andare per entrare in chat ma ecco ok ha caricato allora come vedete ora siamo sulla chat di un mio personaggio voi dovete per essere i miei seguati e seguirmi così potete anche settare con il resto dei miei personaggi schiacciare sul mio nome sopra così ecco qui la pagina e poi mettete follower ed ecco fatto vi potete vedere tutti quanti i miei 101 personaggi che ho fatto che poi farò un video dove parlo con loro ho cliccato vari personaggi di alcuni canali che seguo sono anche io ecco ho cliccato anche me stesso bene ora sapete come potermi seguire parlare con i miei personaggi quindi raga grazie per aver visto questo tutorial e ci vediamo